www.tg10.it ben tornati ad una nuova edizione è prevista per oggi pomeriggio l'arrivo a Gela delle salve di Giuseppe ed Emanuele l'avviso padre e figlio morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno storm 300 stavano sorvolando l'isola di Strombo l'autopsia disposta dal sostituto procuratore della Repubblica Estadionale di Barcellona Pozzo di Gotto Francesco Lomonaco è stata eseguita nella giornata di ieri Chiesa Madre sarà allestita a camera aziente e i funerali si svolgeranno domani alle 12 per l'occasione il sindaco Domenico Messinese con un'ordinanza ha deliberato per la giornata di domani il lutto cittadino l'agenzia delle entrate di Gela non chiuderà per tutto l'anno 2016 l'unica chiude in Sicilia sarà la sede di Milazzo perché la struttura è in eccitolo la CGL a tutti i livelli ha subito acceso i riflettori su un tema delicato e trasversale poiché interessa e investe il libero cittadino il professionista e di tanti commercianti che quotidianamente si regano presso l'ufficio di Gela lo ha dichiarato in una nota stampa Ignazio Giudice, segretario generale CGL a Roma tre giorni fa è stata accolta la proposta dei sindacati argomentata dai numeri prodotti e dalla delicatezza delle funzioni svolte dall'agenzia mi permetto, continua Giudice, di invitare la politica, tutta la politica, di tutti i partiti a non abbassare la guardia rispetto al tema dell'arretramento dei servizi pubblici e confermo la mia idea che oggi prende ancora più vigore che donare locali comunali gratuitamente adenti con milioni di euro di utili sarebbe stato un grande errore ho telefonato a detto Giudice e al Sindaco per informarlo così da evitare qualsiasi negoziazione per la gestione di beni pubblici tutto ciò per un proficuo lavoro basato su fatti di interesse collettivo che le istituzioni ogni giorno dovrebbero praticare 700 atleti provenienti da tutta Italia correranno domenica prossima 29 novembre alle 10 a Gela la seconda maratonina del corso valida come prova conclusiva del Grand Prix Sicilia di maratonine senior master maschile e femminile e non a prova del Grand Prix provinciale FIDAL di Caltanissetta la manifestazione sportiva promossa dall'associazione atletico Gela con il porticino del comune è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città alla quale hanno preso parte anche i presidenti dell'associazione organizzatrice atletico Gela Luigi Morselli, il sindaco Domenico Messinese, gli assessori Damante e Di Paola il lungomare gelese del parco urbano di Macchitello faranno da suggestivo scenario naturale alla gara tra gli atleti spigga la partecipazione del fondista Francesco Invergiola terzo alla Maratona di Roma nel 2000 e quinto ai campionati europei di atletica leggera a Gotebo del 2006 era questa l'ultima notizia vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10 oppure potete comodamente visitare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni